Ciao a tutti, oggi in questo breve video voglio leggervi un breve racconto di Kafka dal titolo in galleria contenuto all'interno della sua raccolta di racconti in cui c'è anche le metamorfosi che come sapete è uno dei romanzi di Kafka per cui lui è più famoso e noto. In questi giorni mi è venuto in mente questo racconto che avevo letto, l'ho ricercato e ve lo voglio leggere molto breve perché mi è venuto in mente perché secondo me è attualissimo in questo momento nella nostra società e capirete il perché nel momento in cui ve lo leggo. Come tutti i racconti di Kafka spesso è difficilissima la loro interpretazione come in questo caso è come un'allegoria vuota nel senso che a differenza di allegorie non so penso a Dante dove il messaggio è sempre chiaro diciamo è facilmente definibile identificabile in questa scrittura di Kafka appunto del primo novecento l'interpretazione dell'immagine è vaga, è lasciata al lettore e infatti appunto sui 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 suoi racconti della sua scrittura sono piene le biblioteche di testi che hanno cercato di dare significati e interpretazioni. Io vi proporrò una interpretazione che è quella più che sembra essere la più più accettata anche dalla critica diciamo di questo breve brano che vi leggo. Dunque prima di tutto ve lo leggo è breve. Allora il titolo è In galleria. Se una qualunque cavallerizza gracile malata di tisi fosse spinta sopra un malfermo cavallo in giro nella pista, si intende la pista di un circo equestre, ininterrottamente per mesi davanti a un pubblico insaziabile dalla frusta squassata da un superiore senza pietà, piroettando sul cavallo, gettando baci, molleggiandosi sui fianchi e se questo spettacolo sotto il persistente frastuono dell'orchestra e dei ventilatori si prolungasse nella grigia incessante prospettiva del futuro, accompagnato dal decrescere poi dal riaccendersi di scrosci di mani plaudenti che sono in realtà maglie a vapore, quindi applausi che in realtà sono prodotti in modo meccanico. Forse allora un giovane spettatore di galleria si precipiterebbe giù per la lunga scala e attraversate tutte le file di posti piomberebbe nella pista e darebbe a gran voce l'alt tra lo strombettio dell'orchestra che sempre si adegua alle situazioni. Quindi prima c'è un unico grande periodo come vedete e adesso vi il secondo grande periodo, quindi un racconto fatto binario di due grandi periodi con due protagonisti come vedete questa cavallerizza che sta girando nella pista di questo circo equestre con un direttore del circo che infierisce contro di lui con delle frustate eccetera di fronte ad applausi che nella realtà non sono neanche reali ma prodotti in maniera meccanica e un giovane spettatore che dalla galleria vedendo questa scena crudele si alza, si precipita e blocca dall'alt. Vi leggo il secondo capoverso. Ma poiché non è così, poiché una bella signora bianca e rossa entra di volo tra i cortinaggi cioè tra le tende che le vengono schiusi dai baldi inservienti in livrea e il direttore cercando appassionatamente i suoi occhi le respira in volto docile come un animale pieno di sollecitudine la innalza sul pomellato cioè sul cavallo quasi fosse la sua idolatrata nipotina che parte per un viaggio pericoloso non si decide a dare il segnale con la frusta finalmente facendo forza a se stesso fa risuonare lo schiocco corre accanto al cavallo spalaccando la bocca segue con occhio vigile i salti dell'artista trova quasi inconcepibile la sua cura cerca di metterla in guardia con parole gridate in inglese richiama furibondo alla più spossante attenzione i palafrenieri che reggono i cerchi cerchi per il salto del cavallo prima del grande salto mortale scongiura mani alzate l'orchestra di tacere alla fine solleva la piccola dal cavallo tremante la bacia sulla due gote e non giudica mai abbastanza calorosa l'ovazione del pubblico mentre lei stessa da lui sorretta correndo alta sulle punte dei piedi entro un nembo di polvere a braccia aperte e arrovesciando la piccola testa vorrebbe far partecipe tutto il circo della sua felicità poiché è così lo spettatore di galleria appoggia il viso al parapetto e sprofondando nella marcia di chiusura come in un triste sogno piange di un pianto inconsapevole e così si chiude questo racconto allora come vedete è un racconto che è binario è organizzato di due grandi blocchi il primo è un unico periodo quello che vi ho letto all'inizio dove c'è questa cavallerizza che gira col suo cavallo intorno a questo circo equestre e l'altro spettatore in galleria vede però una scena raccapricciante con il direttore del circo che la frusta quindi un'immagine che lo fa reagire quindi lo spettatore si precipita giù e dall'arte no mentre ci sono questi applausi che nella realtà sembrano anche essere finti nel secondo periodo inizia col ma poiché non è così perché abbiamo un come un rovesciamento della cena in questo secondo periodo ci descrive una cavallerizza che fa la stessa cosa no ci gira per il circo equestre ma con un direttore che invece pieno di premure di attenzioni verso di lei lei stessa avete visto no tutto questo questo incedere di periodi dove descrive la cura l'attenzione che ha il direttore verso questa questa cavallerizza alla fine la bacia sulle gote tutti la prende con molta delicatezza alla fine quasi abbracciandola no e tutti applaudono e cosa fa invece quello spettatore della galleria a questo punto è impotente non non fa nulla appoggia il viso al parapetto e sprofondando nella marcia di chiusura come in un triste sogno piange di un pianto inconsapevole quindi non reagisce e piange allora cosa potrebbe volerci dire kafka come vi dicevo il lettore è sempre chiamato in causa nei suoi racconti nel tentativo di dare un significato di dare un'interpretazione qui probabilmente allora lo spettatore c'è proprio un ribaltamento di piani qual è la realtà vera la prima scena dove probabilmente lo spettatore potrebbe rappresentare anche l'intellettuale ma anche lo stesso lettore potremmo identificarci anche noi in questo spettatore all'inizio vede una scena che comprende di cui capisce chiaramente dove il bene dove il male no il direttore che è il malvagio e la cavallerizza e quindi interviene dandola nella seconda scena invece così potrebbe non essere la seconda scena invece è una scena dove la lettura è completamente diversa e lo spettatore nella galleria è spaisato non riesce più a capire qual è il significato quello che sta accadendo ha come un'intuizione ok un pianto inconsapevole intuisce che la realtà che che è dietro no ma poiché non è così intuisce probabilmente che in realtà è una una mascherata quello che vede non è la realtà la realtà vera ne ha un'intuizione ma non è consapevole non è non ne ha la certezza e quindi resta impotente con uno spettatore impotente e incapace anche di di comprendere di cogliere quello che che sta davvero succedendo e questo vi dicevo a me è venuto in mente no perché è una è una una metafora un'allegoria che è un tema anche molto attuale no la vita come uno spettacolo come il regno anche dell'apparenza e la difficoltà di individuare di cogliere i significati dietro quello che ci appare nell'immagine nel palcoscenico come in questo caso ci sono gli spettatori che che vedono uno spettacolo ma è difficile cogliere qual è la la realtà vera di questa cavallerizza dove sta il bene dove sta il male quello che che ci stanno facendo vedere cos'è veramente dove qual è veramente il significato della scena che che vediamo no e quindi questo io lo trovo attualissimo nel nel mondo attuale dove siamo nel mondo dell'immagine no dove dove è la realtà vera qual è l'apparenza qual è il confine e quindi spesso siamo spettatori impotenti dove abbiamo delle intuizioni ma è difficile arrivare a ad avere delle delle certezze che ci spesso quindi questo ci impedisce anche di agire restiamo immobili impassibili con questo pianto inconsapevole come lo descrive questo spettatore nella galleria mentre nella prima scena era palese era evidente la crudeltà del direttore e quella evidenza ha portato lo spettatore ad agire ad intervenire per interrompere quello spettacolo perché lì era chiaro qual era quali erano le parti cosa forse stava succedendo cosa che non è nella seconda parte e e questo è l'incapacità di distinguere le apparenze della realtà e in essa è impossibile distinguere ciò che appare da ciò che è in una società come quella odierna in cui dominano anche la televisione le immagini questa lezione di kafka sembra davvero essere seppur è stato scritto all'inizio del novecento molto a molto molto da dire anche a noi oggi e qui mi fermo magari più avanti potrei fare qualche altro video magari un po più lungo dove vi parlerò anche un po un po più di kafka che è un autore che mi che mi sta interessando ultimamente riprendere e ristudiare e buona giornata a tutti buone letture ciao